Ciao a tutti da Maurizio di Moto.it, benvenuti su Recensito. Oggi parliamo di un qualcosa che è stato pensato per chi ama l'avventura. Si chiama Icon Raiden DKR ed è un completo composto da giacca, pantalone e stivali. Sono prodotti che arrivano infatti dai lontani Stati Uniti e sono disegnati e sviluppati in Oregon. Ma procediamo con ordine, partiamo con la giacca Raiden DKR. Intanto diciamo che è un capo 100% waterproof, dotato di cuciture sigillate e che poi offre la possibilità di avere due strati, uno esterno, quello che vedete, e poi la fodera termica interna. Quello che è importante segnalare è che la chiusura avviene per mezzo di due automatici, uno nella parte alta e uno nella parte bassa e poi grazie a dei pratici magneti annegati all'interno del tessuto. Quella che vedete quindi è la parte esterna e poi abbiamo la fodera interna termica per resistere alle temperature più basse. Quali sono poi le caratteristiche accessorie? Abbiamo tre tasche di cui due nella parte bassa e una nella parte alta. Poi abbiamo cinque tasche interne e una serie di cerniere pensate per rendere la giacca più ventilata. Ne abbiamo due nella parte frontale sopra il petto, due nella zona ascellare e una posta posteriormente. La giacca è dotata poi di protezioni, quindi abbiamo le protezioni sulle spalle, sui gomiti e anche il paraschina. Vi ricordiamo infine che come optional per questo tipo di giacca c'è anche Raiden DKR Hydratation Pack. Taglie per l'uomo andiamo dalla 46 alla 48 ovvero una S fino alla 62-64 ovvero una 4XL, mentre per la donna andiamo dalla XS alla 2XL. Il prezzo della giacca è 427,20 euro. Ed ora passiamo al pantalone. È 100% impermeabile anche lungo le cuciture che sono il punto nevralgico dei capi che devono resistere alle intemperie. Lungo quasi tutto l'interno della gamba è presente una cerniera che ne rende più pratica l'indossabilità. Vi facciamo notare che questo pantalone esce già di serie con le protezioni sulle ginocchia e sui fianchi. Poi se lo indosserete potrete scegliere come utilizzarlo ovvero come pantalone o come salopette perché le bretelle sono di serie. Una sua caratteristica importante è che è un prodotto over pant fit ovvero che può essere indossato anche sopra i jeans. Ovviamente dovrete deciderlo prima di acquistarli così da optare per una taglia corretta ovvero una taglia in più. Per quanto concerne le protezioni esce di serie con quelle sulle ginocchia e sui fianchi ve lo abbiamo detto. Varianti colori come per la giacca abbiamo glory nero, nero, marrone e carbone solo però per la versione donna. Le taglie andiamo dalla S alla 4XL per l'uomo e per la donna dalla XS alla 2XL. Il prezzo infine 308 euro virgola 20. E infine l'ultimo componente ovvero gli stivali. L'aspetto è un po' robotico come forme però li abbiamo provati, li abbiamo indossati e la calzata è buona e viene offerto un grande comfort. Inoltre la qualità percepita è ottima e guardandoli da vicino anche le finiture sono davvero di alto livello. È un prodotto impermeabile e la caratteristica è che hanno due ganci e una cerniera posta posteriormente. Le varianti colore sono glory nero e nero, misure andiamo dalla 41 alla 48 e mezzo e il prezzo è di 286 euro e 60. La garanzia su tutto il completo ovvero la giacca, il pantalone e gli stivali è di due anni. Difetti? Forse questa grafica così chiara è un po' sporchevole. E infine un consiglio pratico, la vestibilità è molto larga, è un prodotto americano ricordiamolo, quindi se solitamente indossate una L dovete pensare all'acquisto di una M. Ciao a tutti da Maurizio di Moto.it e vi aspetto alla prossima puntata di Recensito. Ciao a tutti da Maurizio di Moto.it, benvenuti a Recensito. Dovete sapere che è un sandwich di più materiali. La vestibilità è piuttosto stretta ma addentriamoci nel dettaglio. Quali sono le caratteristiche principali? Infatti pesano circa un terzo in meno rispetto alle batterie tradizionali. Vanta diverse accortezze e soluzioni che solitamente troviamo su giacche di fascia più alta. Si nota poi il sistema di ritenzione a cinghia con doppio anello.